Ultima partita del girone d'andata per la Serie A Lega e Calcio 8, tredicesima giornata, si affrontano Steaua 2005, studio Bonfiglio immobiliare, fuoco pronto a inserirsi, vedremo come batterà Nappi, in agguato, sfira la palla, ingannato completamente, Stircu battuto subito, neanche fosse un fulmine al ciel sereno, viene subito battuto l'estremo difensore. Dello Steaua 2005, ingannato, Fiorelli, palla sulla destra, cross verso Nappi, Nappi potrebbe andare a concludere, raddoppio su di lui, però la conclusione direttamente in porta stavano da Stircu. Nappi che conferma il suo stato di grazia e arriva il raddoppio imperioso, gol prepotente. Se ne va Bossi in anticipo, Bossi per cercare spazio, serve fuoco, fuoco, se lo porta sul sinistro e conclude, ottima la finta di fuoco, se lo porta sul sinistro, poi punisce Stircu battuto per la terza volta in dieci minuti. Le giocate per la terza se ne va, Sotrocan e punisce la disattenzione difensiva dello studio, Bonfiglio se ne va sulla sinistra, assolutamente non puntuale la difesa di Fiorelli. Un errore in fase difensiva, rimedia in qualche modo. Tanto Tirinka da fuori, fuoco, ancora un errore e ne approfitta Stegaru, come abbiamo detto non ci si può distrarre nemmeno un attimo con lo Steaua 2005 che gode appunto di giocatori come Sotrocan, Dilcu e Stegaru, in grado di approfittare di ogni errore. Sembra aver perso la brillantezza, intanto la conclusione, Stircu miracolo! Fallo su Stegaru, costretto al fallo tecnico, lo studio Bonfiglio deve stare attento, viene battuto subito il pallone a sorprendere, conclusione, Pinotti battuto! 3 a 3, lo Steaua 2005, approfitta della deconcentrazione dello studio Bonfiglio sulla punizione, aspettavano forse il fischio arbitrale ma la palla è stata subito battuta. Stegaru, Stegaru sulla sinistra, pericolosissimo Stegaru, abbiamo detto più volte, è dato Sotrocan, se va con una gran giocata e mette la palla fuori. Palla che si è infranta, sul palo Pinotti arriva sulla sfera a deviare ma la palla arriva a Stegaru che la butta dentro. Studio Bonfiglio non doveva assolutamente perdere, il ritmo della partita, arriva però Nafima, miracolo di Stircu! Costringe al fallo però, difensore bianconero, ancora un'occasione, non stavo a 2005, subito ribattuta per Tilinga, conclusione deviata! E Pinotti ingannato, subisce il quinto gol! L'incubo tremendo per i bianconeri, che affondano sempre di più dopo aver troccato il cielo con un dito come Icaro, cadono rimedialmente al suolo. Parte Citronelli, finta, conclusione da fuori del numero 7, tre su di lui! Perde il pallone, Nappi, Nappi vuole tirare su i suoi, rimette al centro, pallone dorato e palla messa dentro! Gol prezioso, grazie al servizio di Nappi che dimostra di poter cambiare le sorti del match. Stava 2-5, sbaglia però nella fase di disimpegno, prova a intervenire, Vilco riscando il gioco pericoloso, tiro di Citronelli, Stircu ci arriva con le unghie! Palla lunga, prova ad andarsene, costretto al fallo, attenzione! Ora probabilmente ci proverà il capitano Tilinga a distruggere le speranze dello studio Bonfiglio quando ormai manca poco allo scadere. Parte Tilinga, conclusione in porta! 6-4, stiamo a 2.500, che serra in cassaforte la partita, quanto manca poco al fischio finale. Davvero buona la prestazione dell'estremo difensore gialloblu. Incredibile ancora una volta! Partita che finisce qui, 6-4, partita incredibile, remuntata! C'è tanto rammarico perché siamo partiti veramente bene, dopo 10 minuti eravamo 3-0, poi siamo andati in blackout più completo. Forse mentalmente sentivamo già il risultato nostro, i tre punti a casa, ma dopo 10 minuti è veramente poco. Forse è anche un po' un calo fisico, in settimana lavoreremo, parlerò con la squadra e vediamo perché è successo questo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!